Il caposalto, vedete, il luogo originario e privilegiato della sua evangelizzazione. Interessante anche questo. Non ci pensiamo mai, noi andiamo a un matrimonio, facciamo festa. Pensate come siete importanti voi. Invece oggi ci aiutate a incontrare il Signore. E Gesù inizia a raccontare, vedete la fede, come si racconterebbe una storia d'amore. Simone e Già. Non so, è vero, tu ti devi vestire adesso. E io credo che oggi sia la cosa più bella che ci possiamo dire. Che siamo felici e dunque è la cosa più bella che possiamo vivere. E dobbiamo viverla con questa prospettiva. Che cosa? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.